Buonasera a tutti e benvenuti all'evento Ask Me Anything di Get Latest Version, organizzato da Get Latest Version. Io sono Alessandro Alpi e questa sera provo un attimino a gestirmi da commerciale, anche se non avete la videocamera perché ovviamente il dress code è quello di uno sviluppatore, quindi diciamo non particolarmente elegante. Ecco, stasera proviamo a vendervi un po' quelle che sono le buone pratiche per distruggere DevOps. Ovviamente questa sessione sarà ironica, quindi dirò cose che non sono da fare. Lo anticipo perché a volte viene presa come consigli da seguire perché sono patent presenti nelle aziende che sembrano quasi pratiche da seguire a volte, però in questo caso in realtà è esattamente il contrario. Chiudiamo questo cappello introduttivo, quindi la sessione vuole descrivere un attimino quello che è l'elenco delle cose che ho trovato nella mia vita professionale, insomma tutte quelle cose che secondo me portano alla distruzione di questo nostro bellissimo DevOps e tutto quello che concerne anche il mondo un po' del cambiamento, dell'iterazione, dell'automatismo, dell'agile, dell'organizzazione, insomma tutte quelle belle cose di cui Get Latest Version parla da tempo, ecco in questa slide verranno meramente distrutte. Oltretutto vi invito a, visto che questo comunque è anche un percorso condiviso, mi piacerebbe sapere anche il lato vostro quali sono le cose che possono essere aggiunte oltre a questi step che vi presenterò. Prima di arrivare al titolo di questo deck diciamo, sono passato da queste altre possibilità. Allora, distruggiamoci distruggendo DevOps, divide timpera, fare di tutto per non rilasciare che è quello che forse mi fa sorridere di più, automatismo e flusso di lavoro, no grazie, DevOps non è acronimo di Doveps, Dove Powership, sarebbe questa una battuta da nerd che mi poteva risparmiare, non funziona ma la lascio lo stesso, e quella invece più seria è no dev uguale, no dev e no ops uguale DevOps. Ecco, ovviamente no ops non vuol dire DevOps, questo è estremamente importante. Dunque, il successo garantito per distruggere DevOps parte con creare un team ruolo DevOps. Ecco, a parte il fatto che esista un team DevOps è anche molto importante mettere contro tutto quello che è il mondo dello sviluppo con le operation, quindi se, e mi viene da dire nella maggior parte dei casi, qualcuno fa parte di un'azienda che ancora non ha reso unito e continuo il flusso di lavoro tra development e operation, ecco continui così perché è il buon modo per tenere isolate le risorse, tenere dei team completamente diversi, dei ruoli distinti, addirittura andare a creare un ruolo che governi questa divisione. Quindi questo è forse il principale degli antipattern che ho trovato all'interno delle aziende. Questa immagine esplicativa di una lotta che descrive due persone neanche particolarmente fisicamente dotate, però sicuramente non ho ancora capito chi è il dev e chi è l'operation, ma sicuramente dietro c'è qualcuno che si sta divertendo. Ecco, in realtà questa è una delle cose più distruttive che si possono fare proprio perché interrompe uno dei principi di DevOps che è avere flusso continuo di lavoro. In questo consiglio ovviamente la lettura di The Phoenix Project e anche di DevOps Handbook, dove troverete importantissime nozioni sia su come è nato il termine DevOps e quindi come sono nate le pratiche e i principi che ci stanno dietro, sia una reference ottima per appunto ottenere DevOps, che è quello che ricordiamo noi vogliamo distruggere con queste slide. Ecco, lo step 2 è, scusatemi, mi viene da ridere pensando a quest'uomo che vede il cambiamento che arriva. In realtà mi viene da ridere da una parte, ma dall'altra parte invece mi rendo conto che il cambiamento sia una delle cose più difficili da percepire per l'essere umano in generale. Ecco, molto spesso è la paura di questo cambiamento, che succede soprattutto quando non esiste un team, ma quindi quando si è magari da soli a lavorare su tantissime cose ogni cambiamento rischia di destabilizzare la nostra condizione di lavoratore abituale, diciamo, è una delle cose che ho trovato di più. Quindi molto spesso nei team di cui ho fatto parte e anche in quelli che ho guidato ho sempre trovato qualcuno che ha sempre paura del cambiamento perché il cambiamento, forse, immagino, è un retaggio anche degli anni passati, è sempre stato visto come epocale. Quindi una volta i rilasci erano ogni qualche anno, quando iniziate a lavorare anche 5 o 6 anni, insomma, forse anche di più per certi software. Quindi non c'era l'idea di rilasci continui anche dei grossi vendor, ma c'erano proprio dei cambiamenti che imponevano un refactor che, guarda caso, era sempre un costo o un debito tecnico incredibile per ogni azienda. Quindi c'è questa percezione che il cambiamento, così come la, come posso dire, il variare delle tecnologie utilizzate, quindi ad esempio una persistenza poliglotta, un programming poliglotto, anche se brutto, meglio direlo in inglese in questo caso, tendono sempre a spaventare. Quindi un retaggio del passato è anche non cambiare quello che va con il conseguente copy and call. Anche qui, personalmente, mi è capitato spesso trovare parti di programma che funzionano e non si sa neanche perché, perché magari chi le ha scritte in ottica di team, ovviamente, le ha scritte in modo ermetico ed incomprensibile. Ecco, in quel caso funziona, perfetto, faccio copy and call, ripeto quello che è ormai diventato un problema, anche se era magari un metodo, una funzione n volte qua e là, in modo che se succede qualcosa, mi è successo in centomila posti diversi, ovunque, ho fatto in call ed io solo so dove l'ho fatto, però almeno sono sicuro che quando lo uso e so che va, andrà sempre. Ecco, ovviamente questo è un antipattern che va contro al mantra aziendale, ad esempio nostro, ma penso anche di chi ci ascolta, sicuramente dei membri di Get Latest Version, che è un software fermo e un software morto. Quindi, non cambiare tanto per cambiare, ma avere un piano di cambiamento che continui a tenere il vostro software al passo coi tempi, quantomeno al passo coi tempi. Una cosa legata alla paura del cambiamento è che, dal momento in cui ci sono figure che vogliono fare di tutto per evitarlo, si creano anche delle tecniche, quindi delle tecniche sotto banco che consentono di non aver più paura del cambiamento, perché? Perché lo evito a priori. Quindi, stime iperdilatate, attese ingiustificate, ostacoli in tutto il percorso, fare di tutto, insomma, per bloccare ogni cambiamento a priori. Quindi, prevenire è meglio che curare in questo caso. Vogliamo distruggere DevOps? Preveniamo il cambiamento, perché, attenzione, come disse il saggio, i peggiori pericoli sono proprio nascosti dietro ad una buona idea. Quindi, non fatevi ingannare da chi ha buone idee per il cambiamento. Bloccatelo quanto prima. Ecco, questa bicicletta mi ha lasciato a bocca aperta, però secondo me descrive la personalizzazione, quello che è custom, ok? Quindi, all'interno ho n distribuzioni da fare, n installazioni, perfetto, ognuna di queste linee, customizzata, ma attenzione, non fico toggle o qualche policy, o dei ruoli che mi accendono, mi spengono le funzionalità, fanno tweak, quella, no, 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 tutti i processi customizzati. Ecco, questo è fantastico perché? Perché ovviamente andiamo a ridurre quella che è la possibilità di automatizzare, e l'automazione per noi che vogliamo distruggere DevOps deve essere un grandissimo problema e un cambiamento che vogliamo prevenire a tutti i costi. Allo stesso tempo, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche dal punto di vista del personale, abbiamo un team di 10 persone con 20 clienti, perfetto, ogni persona è a supporto di almeno due clienti che sono sempre gli stessi, oppure abbiamo 10 clienti e 10 persone, perfetto, ogni persona un cliente. è guai a distribuire anche la conoscenza, quindi quel dev deve conoscere addirittura non solo la linea di supporto per il cliente, ma anche gli sviluppi dedicati alle parti personalizzate di quel cliente. Questo ovviamente ci consente di avere mille codebase, le chiamo codebase, ma insomma, voglio dire, ci vuole una bella presunzione per chiamare così in realtà, va a finire che sono tante cartelle che manuteniamo a mano perché un processo automatizzato sarebbe talmente complesso da manutenere che sarebbe un ulteriore punto di rottura dell'automazione. Anche questo va a portare il completo blocco del flusso di DevOps. Ricordiamo che DevOps è un flusso continuo basato sul simbolo ciclico, comunque dell'infinito, in cui tutte le parti di development e operation sono in costante integrazione e in lavoro continuo, senza mai avere interruzioni. Quindi mille codebase potete pensare a che disastro possono portare. Anche questo, anche questo slide è molto interessante, vi sfido a guidare utilizzando tutti questi, come posso dire, tutti questi, questi sono TomTom, Garmin, comunque tutti questi navigatori, ho fatto pubblicità occulta. Ecco, non è che avere un source control significhi creare processi personalizzati per ogni persona che ci mette le mani. Quindi non è che ognuno lo può poter usare, lo deve poter usare come vuole. Ok? Serve un insieme di regole anche per definire un processo, sia esso tecnico, sia esso funzionale. Comunque deve esistere un iter, il più possibile uniforme, affinché minore siano le modifiche che devono fare al suo interno e non, come vediamo in questa slide, essere costretti a seguire una sola di queste strade oppure tutte, tanto ognuna punta a una strada diversa. Ecco, si spera che questo autista sulla macchina almeno abbia la stessa destinazione, perché altrimenti il rischio è ancora più alto anche per il malcapitato. Ecco, poi qui entriamo invece nell'ottica del potere, della sudditanza. Quindi c'è sempre, all'interno dei team, o almeno mi è capitato spesso, soprattutto nei team, ripeto che derivano da un passato, anche da come ha fatto l'azienda, perché ha deciso di dare un certo tipo di potere a certe figure e non che questo sia necessariamente male, purché ovviamente la parola potere sia usata con effetti positivi e benefici. Di solito ci sono figure che tendono a stravolgere quello che è stato scelto in team perché ritengono che la soluzione sia la loro, sia migliore in assoluto. E quindi cercano di inventare un processo non consolidato con le idee di tutti, ma un processo custom che seppure uno non è quello definito nel team, che tende ad essere magari inutilmente complesso oppure automatizzato con troppe logiche di business in taluni punti. E questo cosa porta? Ovviamente porta a destabilizzare seppure sia solo uno, però il processo alla fine di rilascio. Quindi non solo la gestione dei chainset, ma anche la gestione dei cambiamenti, del test, della regressione e quant'altro. Se serve, cambiamo processi e strumenti. Ecco, in realtà, se vogliamo distruggerlo, questo non è detto che sia una soluzione efficace. Distruggere DevOps non vuol dire avere più strumenti, anzi, a volte sono anche una via per avere un buon risultato di DevOps. Ma quando parlo di cambiamo processo e strumenti intendo, ok, abbiamo un processo consolidato di team, cambiamolo indipendentemente dal fatto che il team sia stato avvisato e facciamolo al volo subito e indipendentemente da come va d'ora in poi si usa quello. Mentre una pratica diciamo consigliata per far andare bene l'EvOps è comunque quello di selezionare insieme, provare, misurare e in base al risultato ottenere appunto poi alla fine una scelta che è quella consolidata a livello di team. Per quanto riguarda gli strumenti invece non intendo gli strumenti di editor cioè di edit del codice che quello fondamentalmente potremmo anche decidere di usare ognuno il suo. Intendo strumenti più strumenti che facciano magari la stessa cosa. No, magari facciamo una scelta che renda uniforme almeno il set di tool che utilizzeremo per arrivare finalmente al nostro rilascio che ricordiamoci è l'unico vero punto in cui riusciamo a dare valore al nostro cliente. E quindi siccome dobbiamo distruggere DevOps vedete io non riesco a tenere il punto di vista di vendervi degli antipattern però devo ricordarmi che questo è vendere come si distrugge DevOps e quindi assolutamente più strumenti fuori controllo il più possibile diciamo. Fare soprattutto il non previsto ecco questo funziona soprattutto quando si va a parlare di iterazioni all'interno del tempo quindi cioè iterazioni scusate temporizzate all'interno di un lasso di tempo più grande quindi ad esempio con pattern scrum o comunque dove esistono sprinte e delle deadline ben definite diciamo che in continuous delivery quando i rilasci sono molto molto frequenti è molto difficile incappare in questa cosa però laddove il tempo dell'iterazione è molto dilatato ed è tutto pianificato nel modo giusto e messo tutto incasellato anche usando dei framework decisionali di processo come DAD che quindi non impone di stare per forza nello sprint ma dà vari backlog basket e varie possibilità per gestire gli item anche non previsti quello che intendo in questa slide è vogliamo arrivare a danneggiare il nostro processo perfetto entro io che non c'entro nulla col team chiedo il classico report quante volte sarà capitato anche a voi qualcuno che arriva con un foglio e chiede c'è da fare l'estrazione di 200 milioni di righe ma le guarderai tutte assolutamente sì e ovviamente non è umanamente possibile però il report va fatto anche se non serve ora quindi è richiesto da una persona che è urgentemente assoggettata dalla presenza di questo report anche se non serve ora anche se l'azienda non è tra i beneficio anche se nell'iterazione non è previsto va fatto ecco quindi questo per rompere invece il processo di iterazione è magnifico il punto di domanda perché? perché semplicemente non si sa mai da dove arriva ma è molto molto pericoloso e molto efficace in queste slide ecco vabbè l'asino e la formazione vanno ripasso mai formare un team attenzione non intendo formare un team nel senso di comporlo no no mai fare formazione un team perché fare formazione un team vuol dire far conoscere le persone le cose interne ed esterne all'azienda farlo crescere sprecare una marea di tempo e poi sia mai che il nostro team si metta alla lavagna a studiare a fare system thinking come viene chiamato e a pensare come risolvere un problema nonostante il lavoro da informatici più si va avanti meno è scrittore di codice ma più dovrebbe diventare pensare scrivere il meno possibile proprio perché è stata creata un'architettura e diciamo una composizione del nostro software fatta bene a tal punto da dover intervenire in pochissimi punti proprio perché siamo arrivati a una situazione molto consolidata nel tempo chiaro che questo non vale per le start up o per tutte quelle aziende che creano un progetto da zero quindi all'inizio è tutto da scrivere questo è evidente ma pensare anche all'inizio avendo una visione d'insieme una visione almeno di quello a cui vogliamo arrivare alla fine della nostra iterazione dei nostri primi rilasci dovrebbe esserci quindi non sprecate tempo però alla lavagna perché tanto le cancelliamo quindi la formazione la condivisione della conoscenza il crescere è solo una perdita di tempo e molto spesso viene visto come un debito tecnico mentre magari a lungo termine danno tantissimi vantaggi queste pacche ecco non pensare al rilascio poi si vedrà ora ho messo un blue screen un po' recente ma chi ha un po' di anni come me si ricorda la diretta nella quale il blue screen era un po' più vecchio e diciamo che il plug and play non aveva funzionato alla perfezione possiamo dire anche che si parlava meno di devops ecco però se ragioniamo in termini di investimento da parte di qualcuno che è creduto nel nostro progetto e magari ce lo finanzia se vogliamo far fallire la pratica di devops e quindi sconfortare scoraggiare chi ci gestisce o noi stessi ad avere pratiche di flusso continuo di lavoro e conseguentemente anche chi è investito su di noi dare un rilascio continuo la cosa migliore è pensare il più tardi possibile al rilascio quindi pensare soltanto a fare volume di sviluppo senza mai pensare al valore al cliente ecco questo è un aneddoto che vi racconto perché mi è capitato veramente soprattutto nella prima parte quando iniziavo ad essere un po' meno nub dopo qualche anno che ho iniziato a lavorare è partito questo grosso progetto dove dovevo consegnare qualcosa di tangibile entro l'anno ecco io questo entro l'anno l'ho preso da sviluppatore che pensa poco al rilascio entro l'anno diciamo che ho costruito una foundation una base un core chiamatelo come volete solidissimo iper architettato aperto all'estensione chiuso al cambiamento e così via tutti questi bei principi se non che mi sono dimenticato di pensare ai server di produzione e ad andarci sopra poi oltretutto con applicazioni client quindi il risultato è che verso la fine di quell'anno avevamo un'ottima serie di fondamenta e poco di consapevolezza su come avremmo rilasciato quel software ecco e noi vi assicuro che avevamo usato tante lavagne per pensare al software però purtroppo poi ti rendi conto che il valore aggiunto al cliente arriva soltanto quando per il cliente non è tangibile in testa non è tangibile su storyboard non è tangibile come posso dire nel lettere ma diventa valore aggiunto quando usa in produzione il software ero giovane ho sbagliato non si è mai più capitato non è mai più capitato scusate non si è mai più ripetuto e questo cosa vuol dire che la prima cosa a cui penso è ok questo è il mio software ma dove dovrà andare a finire dove dovrà essere pubblicato quale sarà quantomeno l'architettura di insieme che dovrà avere e in questo ad esempio un process decision framework come DA discipline agile consente di pensare anche al delivery in termini di rilascio su infrastruttura di produzione però siccome per pensare al rilascio serve comunque un processo un processo in cui si delinea quali risorse coinvolgere quale hardware serve l'eventuale lista delle cose da comprare e così via cavolo un altro processo ebbene si è molto importante che sia un altro processo integrato nel flusso di lavoro che è la parte un po' più operation insieme comunque alla parte di development che definisce le specifiche ma si perché vogliamo distruggere DevOps distruggiamo anche tutti i processi che possono stare alla base anche se utili per portare valore al cliente chiaro è che chi pensa di distruggere DevOps pensa di farlo per guadagnare di più nel breve tempo e in certi casi questo potrebbe anche essere realistico il problema è che poi subito dopo soluzioni con bug o investimenti a lungo termine mancati tutte queste cose poi si sentono veramente tanto e oggi siamo in un mondo in cui il bug non è più fisiologico così tanto come prima nel software oggi i ragazzi usano il loro cellulare le applicazioni devono andare al primo bug mettono una stellina o zero addirittura sullo store e danno invio ecco tappano scusate sul cellulare non si dà invio inviano il voto quindi prevenire una regressione avere dei processi appunto di unit testing integration testing tutto quello che dà qualità al software è fondamentale e questo fa parte comunque degli step appena antecedenti al rilascio ok fare fix in produzione ecco mi dispiace veramente tanto aver messo i lego in queste slide perché io adoro i lego e credo che siano un progetto incredibilmente efficace e ben fatto però mi faceva ridere quel momento che facevo una fix alla macchina tutto sport ora in produzione perché? perché la macchina fondamentalmente una volta messa a posto deve andare subito però sarà successo anche a voi più di una volta di avere colleghi o voi stessi insomma sarà successo più volte di cambiare un dato direttamente sul database così desktop edit table cambia oppure una qualunque command line interface per uno SQL un bel aggiornamento di un documento e così via oppure la cancellazione di una cartella che sottostà un processo di rilascio automatizzato sì sì cancelliamola e tutte queste cose qua ecco seppure questo diano tanto tanta velocità nell'implementazione della fix intanto porta a un grosso problema quando dobbiamo riportare i change direttamente sul source control per fare in modo di percepire le eventuali modifiche anche e nei processi di sviluppo e di rilascio e nella qualità dei dati o del codice scritto ora il codice compilato è decisamente molto più difficile da cambiare direttamente in produzione però diciamo che agire sul posto è quello che molte aziende credono ancora sia la soluzione migliore dal punto di vista della velocità di intervento ma poi tutto questo seppure sia vero crea dei disastri in quello che è la pipeline automatizzata sempre in ottica DevOps resta il fatto che mi sono reso conto che alcune aziende scelgono ancora ad esempio di utilizzare store procedure o piuttosto linguaggi di scripting dove è facile mettere le mani perché non devo compilare mi basta una bella altera su uno store procedure per portare i cambiamenti direttamente in produzione che lo fanno proprio anche come scelta all'inizio è chiaro che vi dà più velocità è chiaro che vi dà molto più cioè vi rende molto più diretto l'intervento ma attenzione perché intanto faccio un cambiamento in produzione quella persona non è che fa il cambiamento e scappa oddio ci sono anche questi casi però fa il cambiamento e sta lì perché sta toccando dei dati di produzione per vedere se ha creato del danno perché non tutti i software sono così semplici è una store procedure a cinque righe ci sono anche logiche di business che prescindono dalla store procedure stessa o store procedure estremamente complesse o tecnologie un po' trasparenti rispetto al cambiamento che facciamo che vanno a cambiare dati di produzione non solo comportamenti e attenzione perché i dati persistiti in produzione poi capire quali sono non è sempre così facile e soprattutto non è sempre così facile tornare indietro non esistono quasi mai piani di rollback a meno che non ci siano script di deploy o script sotto controllo che vertono su processi ben definiti anche di controllo della qualità ovviamente andando a ragionare direttamente la produzione cosa facciamo? torniamo al nostro bel approccio waterfall che dice se perdevo tempo nello sviluppo mangiamo tutto il tempo per il test e lo usiamo per sviluppare altra roba ecco in questo caso togliamo tutti i nostri bei test i nostri processi di controllo della qualità e facciamo il nostro punch su una riga il nostro edit su una celletta o il nostro script completamente fuori controllo perché mi sono sbagliato a fare un aware e capita perché ci sono tante realtà che mi chiedono non c'è modo di fare nel caso in cui butto via una tabella un bel rollback direttamente sul log delle transatili fermo e dico aspettate aspettate ma perché fate un belete della tabella in produzione? è perché noi diamo fuori le tabelle tramite permessi con SA ah ok ecco ovviamente questa condizione non è mia volontà criticare che esista però è una scelta che quanto prima va evitata quindi cercare di lasciare lo spazio sulla produzione direttamente il meno possibile e ovviamente fix in produzione subito vuol dire ops puro della serie basta avere i permessi sufficienti anche temporanei per andare su un database faccio una bella fix in produzione anche se potevo aspettare due giorni di hot fix più pipeline di rilascio e spacco tutto fondamentalmente così non spacco solo DevOps spacco i dati del cliente spacco i soldi che mi deve il cliente e spacco gli stipendi dei miei dipendenti ecco la filiera improvvisamente si interrompe quella di DevOps ma diventa dritta dritta quella da cliente verso l'azienda uno nessuno centomila branch citazione pirandelliana tutti sulla mainline altra bellissima cosa ad esempio qui dipende molto dal branch in style che si sceglie e sapendo che c'è Gian Maria che mi ascolta evita di intraprendere la discussione se no rischiamo di parlare per ore e ore e ore di branch in style a parte gli scherzi se c'è un source control che vi dà la possibilità di fare branch voi centralizzate voi distribuite questo non significa che devono essere fatte fuori controllo senza alcun diciamo orchestratore senza alcun pattern quindi molto spesso ho trovato invece proprio per fare in modo di rendere difficile il processo il flusso continuo e dell'automatizzazione del processo o qualcuno che lavora sempre costantemente su una linea non rendendo possibili praticamente mai eventuali hotfix o particolari casi di lavoro disaccoppiato da sviluppo a quello che poi è l'ambiente di destinazione che a volte è anche produzione dipende dai casi che si trovano oppure in altri casi l'eccesso di branch quindi una rete un albero infinito di branch tra l'altro in suo scontro centralizzati ad esempio non distribuiti e quindi oltretutto continuano a occupare spazio per le quali non si sa come comportarsi soprattutto delle quali non si sa a volte cosa c'è da fare ma non tanto perché sono tante ma perché non c'è nulla che le orchestra non c'è stata una scelta a monte ecco questo è un altro modo di dire customizziamo personalizziamo quindi creiamo sempre di più i punti di rottura del nostro flusso continuo questo è reinventing the wheel invece ok quindi un altro modo di rendere superfluo tutto quello che abbiamo fatto in attiva DevOps è fare il nostro framework quindi non fidarsi né dell'open source né dei vendor né delle librerie che si trovano su NuGet no faccio il framework io mi faccio una bella classe dati stateful che accede a ogni database basta dargli una connection string perché comunque gli altri sono peggio di quello che faccio io e in questo modo soprattutto per entrare proprio nei concetti di DevOps divento padre o madre scusate mi so potremmo di ta ma dipende del codice e del framework che ho prodotto sono il detentore di tutte le logiche di tutta la conoscenza all'interno della mia azienda o quantomeno del mio team questo mi rende indispensabile questo mi rende impossibilitato a fare le ferie e la malattia molto probabilmente e questo però mi rende importante come dicevamo prima ecco questo tipo di figure ripeto c'è una figura non volontariamente diventa una figura così ma c'è una figura su The Phoenix Project che si chiama Brent che è il nostro soggetto di riferimento che appunto volente o nel ente ha centrato su di lui tutto il lavoro sia delle scelte sia di capacità sia di conoscenza di quello che c'era già in azienda ecco il risultato qual è? è che si diventa automaticamente collo di bottiglia una persona collo di bottiglia tende poi a interrompere anche tutto quanto di buono ci sia attorno nei processi di automazione nei processi di gestione del team e quant'altro quindi siccome la maggior parte dei pattern e in generale il manifesto agile si concentra sulle persone se le persone sono bloccate da altre persone questo è uno dei primi problemi da risolvere o per queste slide fare in modo di avere persone che accentrano su di loro la conoscenza e la proprietà l'ownership diciamo del codice questi non sono delgo attenzione queste sono una sottomarca perché si vede comunque anarchia totale ecco attenzione perché appiattire la gerarchia e quindi rendere un team democratico diciamo da un certo punto di vista semplicemente facilitato da figure che lo facciano andare forte in termini di performance di qualità di produzione di software come vanno raggiunto per il cliente non vuol dire che uno sviluppatore fa quello che gli pare ok nel senso nell'ottica del team l'unità fondamentale di lavoro comunque rimane la persona ma l'unità su cui vanno definite almeno le regole per lavorare in armonia tutti per rendere il codice leggibile a tutti e per rispettare tutti comunque lo stesso set di regole serve parlare di team quindi l'entità è il team e sulla base del team andiamo a disegnare i coding style le coding rules e quantomeno le naming convention quindi aneddoto mio utilizzando dei software di terze parti su management studio ho la possibilità di definire indentazione stili degli alias quantità dei tab colori delle funzioni il case upper o lower delle parole chiave l'indentazione rispetto a una lista nel database ad esempio l'indentazione delle join rispetto alle from le subquery e quant'altro questo fa parte del coding style semplicemente un powershell allo start up della macchina o alla get direttamente dalla parte server del nostro source control non fa altro che eseguire uno script che imposta e scarica l'ultima versione del file di coding style dove ci stanno le regole di coding style e con una semplice combinazione di tasti il nostro codice viene indentato per fare in modo che sia leggibile a tutto il team lo stesso vale per il set di regole quindi siccome si parla sempre di standard che sono all'interno dei linguaggi andando semplicemente a vedere ANSI e gli standard di SQL ci sono elenchi di regole da seguire per quanto riguarda scrittura del codice sintassi ma anche stato di una sessione ecco tutte queste regole sono anch'esse configurabili tramite software di terza parte che vi danno la possibilità di verificare in micro compilazione quindi avendo quella classica sottolineatura verde o rossa mentre scrivete il codice direttamente nel mio caso sia in management studio che in visual studio poi ovviamente c'è anche per visual studio code insomma voglio dire qui stiamo parlando comunque di realtà microsoft ma ce n'è dappertutto anzi devo dire che queste cose molto spesso partivano anche da mondi distanti da microsoft la naming convention che sembra l'ultima delle sciocchezze ha un occhio più come posso dire attento apparirà che sono una delle cose migliori da configurare all'inizio del lavoro insieme nel team quindi non solo il case ma proprio anche l'estensione del nome quindi perdere un po' quelle abitudini da otto caratteri per chi viene come me dalla fine degli anni 90 oppure non mettere le maiuscole tutte le volte che la parola si interrompe oppure non mettere i suffissi e i prefissi tipo che ne so string table usare i plurali singolari sul modello del database dare un nome alle store procedure nel mio caso che non sia sp davanti insomma tutte queste cose qua anche definire magari namespace in maniera convincente perché namespace è quello che poi definisce il percorso a cui arrivo per un modello una classe qualunque uno struct qualunque un enum qualunque cosa sia che possa esserci utile ecco violare le naming convention secondo me anche se al tredicesimo posto può essere una delle cose più distruttive quando si va a scrivere codice insieme perché ognuno definisce la sua e il codice improvvisamente anche se è human readable probabilmente è only one human readable o pochi nel senso che sbagliare naming convention porta anche a come posso dire a rendere il codice compresso illeggibile ragionato in una certa logica e anche il database anche il modello del database quindi bisogna cercare di resistere ai prefissi ai suffissi per tenere ordinate le tabelle tutte queste cose qua dobbiamo cercare di di fare come fa Google praticamente no? come Gmail search don't sort cioè io devo saper cercare e saper trovare non devo per forza tenere ordinati gli oggetti sennò quella volta che un oggetto una tabella una classe arriva dopo cosa faccio? devo stare sulla base di quanto ho creato prima? no stabiliamo una bella serie di naming convention ed evitiamo quei trucchetti da rubrica del 3310 in cui si metteva AAA e nome per metterlo in testa non condividere questo fa sempre parte dell'orticello del famoso orticello cioè della zona comfort di una persona poco reattiva al cambiamento ma che conosce e quello che conosce lo tiene come posso dire lo tiene prezioso e non lo condivide guardate questa foto probabilmente lui non so se è Scrooge di comunque è un avaro questo è un avido questo sicuramente lo è quindi quello che conosco lo tengo solo io mi raccomando vogliamo distruggere le bobs non chiedo mai nulla perché chiedere fa vedere le mie debolezze e poi cosa mi serve crescere? io so e soprattutto un team da una persona quindi lavoro in team nel senso che nella mia testa sono insieme alle altre persone ovvero lavoro in un ufficio in cui siamo in gruppo ma poi lavoro da solo non condivido non seguo le regole e così via ecco cercare di prevenire situazioni di questo tipo per far funzionare invece in ottica DevOps non è così semplice perché non si può neanche arrivare a pretendere di controllare gli individui e di fare comando diciamo non è una grossa soluzione molto spesso è il team che equilibra i comportamenti di queste figure o queste figure semplicemente a un bel momento si devono rendere conto che probabilmente quello non è il posto in cui loro si trovano bene un modo di lavorare che non si sposa con la metodologia andiamo a chiudere a rendersi vabbè questo cane è triste perché il poveraccio non riesce a grattarsi da nessuna parte è evidente però a rendersi in realtà potevo partire con a rendersi però in realtà quello che ho sentito spesso nelle aziende dove sono andato a fare migrazione è che si partiva con un'idea di fare migrazione DevOps dal punto di vista degli strumenti senza però capire realmente che DevOps è prima di tutto una cultura e noi che ci lavoriamo da tanto tempo comunque per me è una scoperta nuova tutti i giorni e comunque tutti i giorni scopro sia metodologie nuove sia tecniche nuove per arrivare a delle soluzioni da integrazioni a Slack da integrazioni su Visual Studio Team Service former Azure DevOps Service scusate e tutto quello che è legacy che comunque il mondo del database è sempre stato molto legacy e questo mi ha sempre stimolato perché mi ha fatto arrivare a dire no non è possibile che il DB stia sempre fuori da questi discorsi mi impegno affinché il database diventi parte di processi DevOps si lotta per metterlo sotto su control fare unit testing e tutto quello che è poi la base per poter sviluppare una soluzione DevOps e oggi posso arrivare a dire che senza arrendermi con un click o con una schedulazione o un rilascio automatico quasi devo ancora finire di lavorarci a database sicuramente automazione di unit test build e controllo della qualità quella è già fatta da tempo però ci sono voluti mesi anche più di un anno ok quindi arrendersi è il buon modo per distruggerlo e soprattutto chi dice di arrendersi alla fine è colui anche che cerca articoli tipo il fallimento di DevOps o il fallimento di Agile ok va bene è vero può fallire fallisce se secondo me la cultura non è condivisa da tutti e se tutti non rimano dalla stessa parte ma arrendersi a priori dicendo nella mia azienda non è possibile fare perché è uno dei passi più sbagliati che si possono fare più giusti per questo slide perché ognuna anche se la tematica è particolarmente complessa prendere piccoli punti e andare a fare giochi tentativi misure per migliorare anche solo quella parte di team o quella parte di processo da agli diciamo ai livelli superiori del business un certo feedback in termini di successo risultati e qualità quindi arrendersi mai ma se vogliamo distruggerlo è la prima cosa da fare e tutte le altre slide potete ignorarle ovviamente mi sembra evidente che il DEC è provocatorio vuole stimolare una discussione su le principali caratteristiche che ho trovato in tante aziende e i principali antipatum che ho vissuto in prima persona quindi mi piacerebbe avere anche se sarà il video su YouTube ad esempio dei commenti sotto su cosa si potrebbe aggiungere a questa slide o comunque che situazioni reali avete avuto e magari per chi è qui dare un minimo di spunto di discussione per farmi presente magari su dove posso aver sbagliato o posso aver esagerato e dove invece mi trovate d'accordo con me quindi io dirai che ognuna di queste due bonus slide sono il titolo ovviamente positivo di ognuno dei punti vi ho lasciato un po' di risorse per esempio gli antipatum di Alex carissimo amico che sono molto simili tra l'altro a quelli che ho trovato nella mia slide che ho trovato nel mio deck proprio perché abbiamo anche discusso insieme di queste cose poi ci sono altre caratteristiche sempre sui antipatum e invece il contrast sempre sugli antipatum questo è tutto vi ringrazio non so se qui ci sono un po' di riferimenti non so se sono stato nei tempi spero di sì 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 assolutamente anzi avrei una domanda prego allora innanzitutto molto interessante mi chiedevo la vita da consulente quando ti trovi a andare in posti del genere no? ironicamente in base alla tua ironia e a dover far cambiare un po' mentalità secondo te il modo migliore per approcciare senza creare troppo problemi vedo ad esempio soprattutto per me che sono principalmente sviluppatore no? le linee guida sull'ecoding style dove generalmente ti devi sbattere molto spesso con quelli che sono i gli sviluppatori di quel team e generalmente hai qualche consiglio qualche tecnica sì in realtà è un problema è un annoso problema lo sappiamo entrambi perché comunque soprattutto quando parli di coding style e coding rule sembra tutto tempo perso quello ha molto fatica a misurare la percezione del debito tecnico che riduci e poi lo vedi soprattutto solo dopo tanto 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 tempo ok quindi è anche molto difficile da giustificare a un eventuale middle manager o al business però a parte l'ironia della slide che ripeto del deck che vuole essere provocatorio in realtà credo che bisogna sempre ragionare onestamente in termini di scelte che derivano da realtà nel senso le persone da cui sono stato hanno questi problemi un po' tutti però con tutti la discussione è sempre stata costruttiva della serie partiamo dal fatto che questa volente o nolente è o una scelta che avete fatto voi o una scelta che vi siete ritrovati ma in entrambi i casi era comunque motivata anche se dal nostro punto di vista magari le motivazioni non erano le migliori o non erano corrette era comunque motivata a punti di vista da situazioni reali che magari noi che siamo consulenti arriviamo dall'esterno non possiamo neanche conoscere ok il problema è che poi la cattiva abitudine si è protratta quindi dal momento in cui conveniamo tutti all'interno della stessa stanza che quella è una cattiva abitudine da quel momento si può dire allora tiriamoci sulle maniche e ci mettiamo oppure mettiamo in ordine di priorità le cose che secondo voi possono darvi per prime valore aggiunte anche se magari secondo me consulente non è così e proviamo a modi compromesso matrimoniale a definire partire prima da qualcosa vedere i risultati prendere fiducia e poi lasciandosi la postilla che vedrete che quando le cose funzionano e anche voi siete poi diventate come posso dire parte del modo di pensare così vedrete che sarete voi i primi a propormi soluzioni e questo di solito succede resta il fatto che questo succede quando chi ti chiama vuole veramente cambiare se invece chi ti chiama vuole provare uno strumento nuovo in quel caso la consulenza cambia nel senso tra di noi si parla da uomo a uomo e si dice ok allora facciamo informazione su questo strumento sperando che voi serva probabilmente avrete bisogno di un altro tipo di consulenza più avanti per risolvere qualche problemino però voglio dire ci sta tutto non è neanche corretto andare in un'azienda che comunque ha i suoi decenni di esperienza magari adesso è in difficoltà però ha fatto il botto per dieci anni sul mercato non è che si può andare lì a dire le vostre scelte sono tutte sbagliate è molto difficile ma ovviamente bisogna cercare di parlare col team e non solo ma anche con chi guida il team proprio per avere una sorta di accordo a livello quasi di sponsor quando sai che chi li gestisce è d'accordo con te tutto in totale onestà senza alcuna strategia alla fine lo vedi con due chiacchiere tant'è che di solito il primo incontro che faccio è più conoscitivo per capire anche fino a dove un'azienda si vuole spingere se veramente vuole ottenere questa cosa perché la migrazione è veramente impegnativa dal punto di vista mentale ma veramente certo grazie grazie mille posso aggiungere un contributo magari una variante a uno dei tuoi antipattern io ho avuto a disposizione alcuni casi in cui sull'unica linea di codice ci sono tutte le personalizzazioni e a seconda di chi riesce a catturare del team di supporto sei più o meno fortunato su le richieste che proponi o le soluzioni in cui hai bisogno nel caso in cui riscontri dei mal funzionamenti ok giusto per cui ecco soprattutto io l'ho notato nel mondo della pubblica amministrazione molti pacchetti sono quelli lavati soprattutto ho notato che hanno questo tipo di caratteristica per cui il codice unico e tutte le personalizzazioni le richieste visto è considerato che normalmente se parla della stessa categoria di esigenze vengono buttate dentro linee del codice con anche tutta una serie di difficoltà e problematiche in fase di aggiornamento sostanzialmente che è il procedere evolutivo del codice in sé per sé e poi tra l'altro questi pacchetti visto che ho avuto un'idea pubblica amministrazione a volte hanno un nome tipo che ne so corso su x e guardando il contenuto del corso su x probabilmente di x non c'è neanche tantissimo quindi molte volte anche chi si forma ha a fare con formatori che magari questa problematica x non la conoscono tantissimo e ovviamente poi chi percepisce il corso lo interpreta in un modo poi conosce un altro punto di vista e qui cominciano a venire fuori sì sì quello uno strumento che viene utilizzato molto adesso è la videoconference per fare corsistica in maniera più veloce e efficiente soprattutto se la devi fare sui grandi numeri il problema è che spesso e volentieri l'utente dall'altra parte se trovi fronte a uno schermo in cui magari le cose non sono esattamente o non si presentano esattamente come lo speaker che ha illustrato le varie tematiche le varie le varie metodologie e per cui normalmente si perde e a quel punto praticamente vanno a bussare a riferimento informatico locale certo eh sì però purtroppo lì nel momento in cui viene considerata l'informatica ancora molto monolitica si tende magari per esempio noi oggi siamo di corsa a fare polyglot programming no c'è marea di linguaggi negli stack marea di tecnologie facendo dei proof of concept per capire se qualcosa funziona poi li butti via se non va bene poi provi dell'altro poi provi un software per far rilascio poi se non va bene ne provi un altro cioè siamo in continuo movimento da questo punto di vista container non container on premise cloud cloud in un futuro open innovation o no eccetera e poi ti rendi conto che ci sono realtà che invece vertono ancora su una tecnologia o su un set di tecnologie che non cambieranno perché comunque il cambiamento è talmente staccato rispetto a quanto è arrivato l'informatica che in questi casi il cambiamento è anche drastico e quindi non hai neanche compromessi come dicevamo prima è quasi impossibile cioè sarà talmente lungo è meglio dare un taglio netto e ricominciare da zero in questi casi veramente a volte non so come comportarmi di solito ho parlato con la formazione ok grazie no grazie a te ok chiudo si switchiamo vai passo la palla antonio grazie a te